buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo killer video come potete vedere oggi siamo in quel di prali finalmente hanno aperto i by park possiamo andare a fare un po di full gas quest'oggi insieme ad andrea all'asia e gli altri amici andremo a fare un mega freeride qua a prali ci divertiremo un sacco ora si chiamò disguide che va veramente forte si pre anticipo la prima volta che faccio sti salti ora voglio stare dietro di te madonna semigazi come entri io fa lurence entra in stracattivo eh ma lurence quest'anno ora seguiamo andrea all'asia il meccanico oh mio dio andrea lui è un local qua wow che doppio ora proviamo a stare un dietro a uno con la viacca wow 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 acqua interno io stavo esterno di solito wow poco spaccato qua ciao ciao quella di acca mi semina ah ma qua siamo siamo nella di acca quella super tossa porco zio e qua con l'enduro è un po difficile ci sono delle compressioni paurose ah c'è la linea interna dai andrea wow slippery questa qua è bellissima guarda qua c'è una linea quella che hai fatto prima eccola qua che figo troppo bella questa ora ora qua inizio a pezzo drittissimo doveva fare delle velocità assurde bellissima anche la passerella qua che gioca che riesco Oh 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 Yeah Legend I have nothing to lose Nothing can stop me I'm all the way up Woo Woo Great Hard and wired Woo Woo Oh 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 Wow Oh 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 avanti, pazzesco signori sono quasi steso mai fatta questa variante ok 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 oh Oh, 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 oh perfetto ragazzi questo vlog da prali si può concludere qua è stata una figata unica vogliamo abbracci che non li sento più devo andare fare un po di stretching e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi iscrivetevi mettete like commentate bella ciao